E anche questa è una pianta che più raccogliamo più farà nuovi getti, nuove foglie, nuove piante, quindi ci fa soltanto bene raccoglierla anche perché appunto è perenne grazie a questo fusto strisciante. E la laviamo sotto l'acqua fredda, facciamo appunto un'attenta pulizia nell'acqua perché anche se magari l'abbiamo raccolta in alto, ha piovuto, ci sembra pulita, a volte, ed è successo, le foglie, alcune foglie erano chiuse a sigaro perché all'interno c'era una larva e quindi poi una volta che l'abbiamo cotta, questa cosa c'era sfuggita, sono affiorate queste larve e abbiamo buttato via tutto. Quindi attenzione perché può succedere, perché è molto amata anche dagli insetti, c'è proprio un vero ecosistema attorno all'ortica. Poi appunto una volta lavate, con la stessa acqua che rimane attaccata alle foglie, la mettiamo in casseruola e purtroppo, anche se ne abbiamo raccolto una grande quantità, nel giro di pochissimo, col coperchio, un pochettino di sale, vedete che diventa una pagnotta, diventa quasi niente, ma il sapore è molto forte. Essendo ricca di sostanze aziotate, cercate di consumarla velocemente perché è una pianta che può fermentare se la lasciamo lì per un po' di tempo. Come si consuma? Si consuma al posto degli spinaci, uno dei primi piatti che ho fatto nella mia vita di raccoglitrice, quando ancora andavo all'università, era il classico e caratteristico orzotto all'ortica, un risotto fatto con l'orzo e con l'ortica. Prima si fa un battutino di cipolla, poi dopo si mette l'ortica e via andare. Ma questo non è un esempio di una delle tantissime cose che possiamo fare, frittate, erbazioni, torte salate, risotti, metterla nel pane. Poi, se la vogliamo conservare, vi consiglio di metterla, di dargli una sbollentata, farla raffreddare e metterla in frigo. Altrimenti, l'alternativa è di farla essiccare, quindi in questo caso non la dobbiamo lavare, e una volta che è essiccata la conserviamo magari in un sacco. Ricordatevi sempre che le erbe secche è meglio conservarle appunto in sacchi di carta, di stoffa. Poi, prima di usarla, preferisco sempre farlo, mi ripeto, scusate, di macinare le piante per fare la polvere prima di usarle, e di fare la polvere di quello che mi serve, perché altrimenti si ossida e si perde un sacco di proprietà. Quindi, prima di usarla, la polverizzo a una parte, in un mixer, no? E quel mix, e quella polvere la userò quindi per andare a fare delle zuppe, dei minestroni, delle vellutate, delle frittate, o ad aggiungere appunto all'impasto della pasta fatta in casa che stiamo facendo. Può essere anche un colorante per chi fa i saponi, perché è ricchissima di clorofilla. Ok, questo ve l'ho già detto, questi sono appunto alcuni dei mille piatti che possiamo fare, no? Pesti, dove la facciamo scottare velocemente, poi anche qui la tritiamo e facciamo una cremina. Veramente di tutto e di più, si presta davvero a tutto. Questo è l'ordotto all'ortica che vi ho detto prima, e la polvere di ortica di cui appunto vi ho parlato. E questi sono i frutti di cui vi parlavo. Io ho imparato a impiegarli in alto adige. Là vengono ancora utilizzati. E consapevoli del fatto che sono ricchissimi. Guardate quante cose contengono. Vitamina A, B, vitamina C, vitamina E, vitamina K, ferro, silicio, calcio, magnesio, manganesio, fosforo, potassio, carotene, acido folico e acidi grassi. Quindi davvero, acidi grassi essenziali, davvero è ricchissimo. Fra l'altro ha un sapore un po' piccante, quindi è anche molto piacevole da aggiungere appunto magari a delle schiacciate, a dei pani o dalle zuppe, al posto del parmigiano. Della stessa famiglia c'è un'erba meno simpatica, ma anche questa invece è buona da mangiare, soprattutto i getti e le tenere foglioline, che è l'erba vetriosa.